Un anno fatto di sfide, sacrifici e rinunce, di certo secondo Confartigianato, è stato il più difficile dal dopoguerra d'oggi. L'associazione di categoria che ieri ha fatto un bilancio dell'ultimo anno non si è mai fermata, supportando le oltre 10.000 imprese che rappresenta. 12 mesi in prima linea, ha commentato il presidente Graziano Sabatini, che ha illustrato i dati e le necessità. Per la produzione, ha detto, abbiamo stimato un meno 10,6% del PIL nella nostra regione e il numero che ci preoccupa di più è quello delle imprese. Noi stiamo stimando un meno 700 imprese per quanto riguarda il fine anno sulla nostra regione e saranno meno 250 imprese all'incirca nella provincia di Ancona e meno 150 nella provincia di Pesaro. Ecco, questo è il dato più negativo che abbiamo da 10 anni a questa parte e su questo dato dobbiamo veramente riflettere anche su quelli che saranno i numeri per l'occupazione. Per quanto riguarda la perdita del lavoro, noi pensiamo che siano circa 10-12.000 persone in questo momento quelle che andranno a perdere il lavoro da qui a fine anno. Forte è in particolare la crisi nel settore terziario, commercio, alberghiero e ristorazione. Inoltre, le procedure concorsuali sono aumentate del 20% nel settore manifatturiero. Le imprese che hanno resistito invece sono quelle più innovative, sono fondamentali, hanno detto i vertici di confartigianato, la digitalizzazione e la formazione che anche noi abbiamo fornito con i corsi durante il lockdown. Ben 5.000 sono state le richieste di aiuto per interpretare DPCM, decreti e bandi. Bisogna incentivare le nuove assunzioni, prorogare la moratoria sui mutui ma anche ridurre i costi bancari, fare un piano di investimenti pubblici e puntare sulle infrastrutture. Un'altra cosa importante che noi diciamo da questo punto di vista è cercare di coinvolgere dove possibile le imprese locali perché comunque sono garanzia della qualità del lavoro e comunque serve anche per l'economia della zona in cui operano. Ci preoccupa molto l'azione delle multi utility che stanno creando un sistema di concorrenza sleale possiamo dire a impiantisti comunque artigiani della zona. Anche queste imprese ha una grande capacità di adattamento che in un momento di turbolenza dei mercati, in un momento di grande cambiamento e di cambiamenti repentini come quelli che stiamo vivendo adesso invece hanno sicuramente dei motivi di competizione che sono secondo me e secondo noi da incentivare, da proteggere, da tutelare perché potrebbero essere veramente un punto di forza. È importante, secondo noi è importante sicuramente vaccinarsi e è importante insomma questo messaggio di speranza, un messaggio positivo che possa arrivare da questa appunto tecnica del vaccino perché riteniamo che in questo modo potremo tornare veramente a progettare il futuro.